Ciao e benvenuta nel mio canale YouTube. Io sono Andrea Capocci e sono il fondatore di Boutique. Mi occupo di fitness al femminile ormai da 10 anni insieme al mio team e oggi vedremo un circuito per eliminare la ritenzione idrica insieme a Asia. Io ti ricordo come sempre di cliccare la campanella e seguire il canale. Buon allenamento! Ciao e benvenuta! Ciao e benvenuta! Ciao e benvenuta! Buon allenamento! 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 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, I ain't met you, I been lookin' Stop the waitin' for, I stopped the chasin' like a alcoholic You don't understand me, what the fuck do you mean? It's the rose to the cheeks, yeah, it's them dirt-colored eyes Sugar, honey, iced tea, bubble beer on the scene Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie 2020, 2020 vision Cupid hit me, Cupid hit me with precision I wonder if you look both ways You cross my mind I said, I'm sick of, sick of, sick of, sick of chasing You're the one that's always running through my daydream I, I can only see your face when I close my eyes Can I get a kiss? And can you make it less forever? I said I'm about to go to work I don't know if I'm seeing you Eccoci qua, giunti al termine di questo circuito Dunque, se sei all'inizio ti consiglio di svolgerlo una sola volta Mentre se vuoi intensificare ancora di più il tuo allenamento Puoi svolgerlo fino a 3-4 volte il circuito Riposando ogni circuito 2 minuti per poi riprenderlo Inoltre, per altri circuiti io ti consiglio di seguire il canale Attivare la campanella e, perché no, condividere questo video con le tue amiche Inoltre, se vuoi avere informazioni per quanto riguarda i nostri percorsi di coaching Clicca il link qua sotto e io ti aspetto al prossimo allenamento